Signore, signori, eccomi qua davanti a voi. Io, Rudolf S., il più grande errore giudiziario del secolo. Vi faccio dono di questa registrazione. Quando voi mi vedrete, io non ci sarò più. Come le stelle che, quando tu le vedi, sono scomparse da un pezzo. Migliaia di anni. Ma in fondo, non sarebbe stato meglio se avessimo terminato il nostro lavoro. Se tu avessi dato il mondo a noi. Sì, oggi sarebbe più semplice, più facile da comprendere. Stasera voi sentirete la mia confessione. Io parlerò davanti a lui. E davanti a voi.